Dottore Tranquilli, dal suo osservatorio, un osservatorio privilegiato, come facciamo a ripartire con l'economia? Non si può far ripartire questa economia, bisogna riprogettare il futuro, riprogettare un modello di sviluppo. Le imprese lo hanno capito da tanti anni, dopo i primi anni di crisi tutte le imprese hanno ricominciato a ripensare il loro modello, la loro organizzazione, le loro fonti di finanziamento, il loro mercato e su questo si gioca la grande scommessa. Quali sono le parole chiave per il futuro e perché? Sono tre, una è il titolo di questo forum, innovazione, innovazione da tutti i punti di vista, innovazione tecnica, innovazione strategica, innovazione istituzionale, ne parlerò oggi. La seconda è internazionalizzazione, che semplicemente vuol dire accettare definitivamente di essere parte di un sistema non solo globalizzato, ma una rete molto complessa, internazionale, che si muove molto velocemente, dove le reazioni alle azioni sono velocissime. La terza è ineludibile, la sostenibilità, che non è solo ambientale, ma soprattutto sta diventando sociale. Tutto il tema nuovo degli immigrati, il tema dello sviluppo, della povertà, sono temi che hanno molto più a che fare con il nostro modello di sviluppo e con la ripresa delle nostre imprese di quello che noi pensiamo.